La storia di Grafica Nicolis è una storia di intraprendenza, di coraggio e di passione. L'intraprendenza chebbe mio padre nel 1969 di avviare questa attività. Il coraggio che ebbe mia madre e ha tuttora di affiancarmi nel portare avanti questa azienda e la passione che ritengo di avere in maniera molto profonda per tutto ciò che è grafica e artigrafiche. Ho la fortuna di avere dei collaboratori in gamba che si dedicano completamente a questo lavoro e altrettanta fortuna nell'avere dei clienti molto molto esigenti che mi chiedono quotidianamente di ricercare per loro soluzioni che siano innovative, particolari, al passo con i tempi, per poterli permettere di distinguersi sul mercato globale. Collaboriamo con Grafica Nicolis in quanto è un'azienda di persone appassionate e sensibili. Abbiamo realizzato insieme diversi prodotti per la comunicazione, di ricerca, fatti a mano, con la creatività che contraddistingue il Made in Italy. Io ho conosciuto Alessandro, il titolare di Grafica Nicolis, ormai più di dieci anni fa e collaboriamo appunto da allora quando lui ha fatto le prime realizzazioni per me. Ho una massima stima perché è un bravo professionista in quanto riesce a seguire tutto ciò che riguarda la parte intellettuale e quindi di sviluppo grafico fino a poi la parte cartacea di realizzazione. Quindi per me è una brava persona, una bella azienda che consiglierei a tutti sicuramente. In questi 50 anni le emozioni sono state sicuramente tante ed è nostra intenzione continuare ad emozionarci per ancora molti anni insieme a voi.